Salve a tutti, allora oggi faccio questo video al telefono, non ho mai fatto video dal telefono però lo faccio tra l'altro con quale illuminazione, sembra che ci sia la madonna ma bene non fateci caso allora oggi volevo un attimo parlarvi di Juve Torino 4 a 0 sto leggendo molti post su internet di gente che ti scandalizza perché è stato rovinato un derby da un'espulsione chi dice che è giusta, chi dice che è giusta e comunque secondo me questa gente è di un'ipocrisia totale perché allora, pensate per esempio a un altro derby come Benevento-Napoli combattutissima eccetera all'improvviso tipo un'espulsione per esempio di un difensore del Benevento il Napoli preso dalla voglia, cioè preso comunque dalla voglia appunto di far gol riesce a bucare la difesa visto che sono in 10 uomini per il loro attacco molto potente e fanno 6 gol, lì va bene lì per esempio, non mi riferisco a Napoli-Benevento di quella giornata precedente ma un ipotetico Napoli-Benevento in quel caso va bene, in quel caso il grande Napoli ha fatto una grande partita in quel caso il grande Napoli ha mostrato il suo bel gioco che tra l'altro oggi con la Span non c'era e se perdeva il Napoli oppure pareggiava buttava fuori dalla schedina e io cacciavo un grande... meglio non dire cosa cacciavo, ecco se lo fa la Roma, dice la Roma, è in testa della Juve se lo fa la Juve abbiamo rovinato un derby tra l'altro di un'espulsione in cui Baseli fa carate kid sul povero Pianici e tra l'altro è apporgati pure a Stitorini, Sida e Mertla andate non a cagare, cammina grande rispetto per il Toro anche perché... Gli Aiccia a Fantacaccio e Jacofar che oggi ne hanno fatto un cazzo, 5 e mezzo tutte e due ma vabbè, lo stesso e comunque voglio dire solo questo anche per esempio dei milanisti tipo Totalfred rovinato, voglio vedere se per caso viene espulso un derby al derby tipo Miranda, l'Albert se la gente è qua e voi segnate 6 gol per esempio, 4, 3, che che sia vorrei vedere se c'è il post umiliati oppure c'è il post abbiamo rovinato un derby ah raga, ripigliatevi